Ma questa spending review qualche imperfezione ce l'ha, tendiamoci, perché non sempre gli interventi che pur sono significativi, per esempio dal lato della pubblica amministrazione ci sono delle novità, anche negli assetti istituzionali pure delle contraddizioni ci sono delle novità, ma ci sono alcune cose che andranno un po' riviste e aggiustate, tipo per esempio per dirne una sola il tema della scuola. E quindi un incoraggiamento al governo a dire se la chiamiamo spending review facciamo una spending review sul serio, significa togliere degli sprechi, significa mettere dei meccanismi di spesa più sensati, evitare tagli lineari e quindi naturalmente noi votiamo la fiducia, votiamo il provvedimento, ma già dalla legge di stabilità quando è autunno ci aspettiamo qualche correzione.